Credo che Triestini si nasce e Triestini si diventa, mi piacerebbe diventare Triestino oggi, vorrei diventare da oggi Triestino e mi assumo l'onore e l'onere di parlarne, di rappresentarla come ho fatto in questi tanti anni all'estero, parlando sempre bene di questa città. Era emozionato stamani Massimiliano Finazzer-Flori, in comune ha ricevuto il sigillo trecentesco cittadino sul gello di una puntigliosa attività di promozione culturale che lo porta lontano dalla città di origine della propria famiglia. Il sindaco di piazza nel corso della breve cerimonia ha voluto sottolineare proprio questo aspetto del percorso di Finazzer-Flori. Spettacoli teatrali arrivati in tutto il mondo dopo essere stato assessore alla cultura del comune di Milano e la voglia costante di far conoscere la lingua italiana nel mondo, caratteristiche che fanno dell'intellettuale nato a Monfalcone un possibile ambasciatore della triestinità nel mondo, compito che Finazzer-Flori ha deciso di accettare puntando su un particolare della nostra città. La straordinaria bellezza, la poesia e la gente comune non è il potere di Trieste che ci interessa, sono i singoli cittadini, i uomini, a volte i loro anziani, che sono veramente interessanti, capaci ancora di raccontarci un novecento che ci manca.